Il 25 aprile dell'osservatorio sui neofascismi della Puglia è sicuramente antifascista, militante, resistente e di pace. Avere memoria e ricordare la storia è doveroso ancora di più in una fase politica come quella attuale dove chi è ai vertici delle istituzioni nazionali quotidianamente la altera, prova a travisarla, a manometterla, a farne bandiera di parte. Noi abbiamo deciso di onorare questo 25 aprile ricordando le donne partigiane pugliesi che hanno dato un grande contributo alla resistenza e alla lotta per la liberazione da nazifascismo. Raccontiamo le storie di alcune di esse nate in diverse province pugliesi, spesso poco note e non riportate in canali ufficiali nazionali. Donne, tante solo ragazze il cui valore patriottico non ha avuto il giusto ed obiettivo riconoscimento. È per questo che noi abbiamo voluto tributare loro protagonismo, lustro e dignità. Raccontiamo la bella storia inoltre di amore e di resistenza di Gianna Giglioli e Angelo Valle, coppia partigiana trucidata dai nazifascisti in Veneto, che onoriamo oggi insieme all'ampia coordinamento antifascista cittadino con la deposizione di fiori nella strada a loro titolata a Bari. Inoltre abbiamo avuto il piacere, l'onore e la gioia di avere la testimonianza della loro nipote Maura Valle, che ci ha inviato un videomessaggio di grande emozione che è visionabile già da oggi sui canali istituzionali della Regione Puglia e su YouTube. In questo anno ricorrono gli 80 anni dall'inizio della resistenza, 78 anni dalla liberazione, 75 anni dalla nascita della nostra bella Costituzione. Date importanti per la storia di libertà e di conquista della democrazia per la nostra nazione. Ecco perché il nostro 25 aprile è oggi nelle manifestazioni e in tutte le piazze della Puglia dove viene onorata e celebrata la liberazione dalla dittatura nazifascista.